Ecco ragazzi il controllo globale, tutti contenti di avere i bitcoin? Faranno sparire i contanti, guardate, gli svedesi, il digital e corona coin, adesso sarà pronto per il trading, ok? Gli svedesi, sì gli svedesi, quelli che hanno già i chip sotto cutanei, adesso faranno il corona coin, ok? E corona, bene, e la lira addio, l'euro sparirà e ci sarà il digital coin per tutti, niente, saremo sempre controllati, niente con tanti.